Oggi andremo a vedere il primo trailer della storia di Fortnite, quindi che rischierà il 2011 Andremo a vedere e ci facciamo pure una bella reaction Quindi se ancora l'aveste fatto mi raccomando ragazzoni miei codici po' con il negozio jet, like, iscrizione e aiutiti di partire subito E tra l'altro ragazzi oggi siamo pure con un ospite che mi sta passando tra le gambe Eccoti qui mamma mia quanto pesi Oggi ragazzi siamo pure con un ospite, non so se ci fai accompagnare anche te a vedere la reaction di Fortnite del 2011 Ti interessa? Guarda se ti interessa secondo me puoi pure stare qui e guardare insieme a me Non ti piace? Vabbè dai andiamo allora Non mi vorrei soffermare troppo sull'intro e vorrei andare subito a vedere questo trailer che purtroppo ragazzi dura poco, dura solo un minuto Ma a me interessa tantissimo la storia di Fortnite, poi magari ci facciamo qualche commentare Ecco ma adesso prima lo andiamo a vedere e poi magari ci facciamo un bel commentary Ok qua c'è l'avviso di sicurezza che potrebbe essere inappropriato per i bambini Vediamo qua abbiamo una Epic Games TNT Ma perché ha fatto esplodere tutto qua? Primesse del video, questo video è stato fatto nel 2011 Quindi quando ancora non c'era Fortnite battaglia reale ma c'era solo salva al mondo Quindi proprio i primi anni, ma i primissimi anni di Fortnite Che appunto ragazzi Fortnite per chi non lo sapesse è stato inventato per la prima volta nel 1990 Ma poi è stato ripreso dopo tantissimo tempo appunto a vent'anni dopo nel 2010 E questo qua infatti è un trailer del 2011 dove fa vedere appunto salva al mondo Infatti nel 2017 ragazzi c'è stato l'inizio di battaglia reale quando appunto Fortnite è esploso Tutti ti hanno iniziato a giocare e purtroppo io no perché l'ho scoperto solo dopo, solo nel 2018 Ma adesso ragazzi lo andiamo a vedere, andiamo avanti Ok lui fa esplodere tutto, viene pure giù il Durbur che non so se l'avete visto Abbiamo un carrello qui con qualche segnale, qualche cartello stradale Qua stanno costruendo un qualcosa ragazzi, guardate qua cosa stanno costruendo Ah è una porta, praticamente dicono che non si può passare, che c'è un limite, che vabbè Oh ma dentro oggi ho pure un bel mostriciattolo, guardate qua ragazzi non so se lo sapete Ma questo qua è il mostriciattolo di salva al mondo Quello che ti viene fuori quando per esempio prendi una cassa, apri una cassa che è infestata Io l'ho giocato salva al mondo quindi appunto posso dire queste cose Ovviamente le cose nuove non le so perché ci ho giocato due anni fa o due tre anni fa Andiamo avanti col video Siamo già ragazzi a 30 secondi quindi Ok qua abbiamo già loro che entrano dentro questo posto qua Molto oscuro ragazzi, guardate qua Uh sapete che cosa stanno facendo ragazzi se vogliono nascondere dagli zombie Che li vogliono uccidere, ecco qua vedete Vedete ragazzi che adesso mi sa che spaccano tutto Mamma mia ragazzi quanti sono, ho pure preso la telecamera Oh mio dio Fortnite guardate qua che ragazzi che trailer Che bomba di trailer Che trailer veramente, peccato che ho durato poco Raga mamma mia che figata Questo qua ragazzi era il trailer ufficiale Perché non se lo ricorda è uno dei primi video che ha fatto Epic Games Anzi Fortnite quindi se andate sul canale di Fortnite Lo penso che possiate trovarlo ecco In mio caso tutti appunto l'ho trovato E che dire, beh 9 anni fa, anzi 10 anni fa Perché adesso siamo nel 2021 Era tanta tanta roba questo gioco perché aveva una super grafica Era molto innovativo e secondo me ci stavamo molto ragazzi Era molto interessante Purtroppo è stato un breve video ragazzi ma vi voglio fare un'altra chicca Vi voglio dire un'altra chicca sul nostro Neymar Junior Perché sapete Neymar Junior è la skin che ho aspettata al momento su Fortnite Infatti ragazzi adesso vi porto con me, seguitemi Ok se avete tutto bianco è normale È perché questo è un trailer della skin di Fortnite Neymar Junior appunto Come state vedendo adesso siete pronti ragazzi Vi voglio dare questa piccola chicca Ma mi raccomando qualora non l'aveste ancora fatto So con un bel like e oppure una bella iscrizione Vi ricordo che è gratis e non costa nulla E poi ovviamente se non l'avete ancora fatto Se volete esagerare Codici può voler negozoggetti Andiamo raga 13 secondi Quindi questa cosa dura un decimo ecco Del video che abbiamo visto poco fa Guardiamo qua ragazzi Diamo l'avvio E attenzione qua ragazzi ci sono delle scritte JR Guardate qua Neymar C'è pure una N Mamma mia raga guardate che bomba Guardate che bomba Neymar Junior E questa qua ragazzi secondo me Non vorrei dire una bagianata ecco Ma penso che sia la schermata di caricamento Del skin di Neymar Abbiamo un Puma Abbiamo un Sì un peso c'è un Puma ragazzi Vabbè comunque è un animale tutto nero Ecco molto cariuccio E poi abbiamo la scritta Neymar JR Verde e oro come colori del Brasile Perché appunto Neymar è Brasiliano Guardate qua ragazzi Poi tra l'altro sotto c'è scritto pure Quindi per non dire nulla raga Dobbiamo parlare a bassa voce su questa cosa Molto interessante Anche questo mini filmato Anche questo mini trailer Spero di avervi aggiornato Il meglio che io possa ragazzi Vi ricordo che ci vediamo tra tre giorni Quindi il 27 aprile È il giorno del mio compleanno Che ci sarà un video E soprattutto una live speciale Vi aspetto lì ragazzi Un saluto a tutti E sempre Codici Puma Ciao bellissimi Ciao Grazie a tutti